via ciao ciao a tutti noi siamo a quattro metri di profondità dove ci troviamo praticamente quindi stiamo nel lago giusto che esperienza di questa babbo ti piace e dove andremo al centro del lago qual è la profondità massima di questo lago dove si trova secondo te a che punto indica col dito secondo e dov'è il massimo della profondità cioè ok dove sono quei pescatori date che bel panorama saluta gli amici